con alcune canzoni alla fine di questa nostra celebrazione. Un ringraziamento particolare naturalmente va al professore Lorenzo Bertuccelli che terrà un'orazione che a partire dai fatti del 9 gennaio in realtà ci indicherà con la capacità che lui ha sempre di fare in esso molto forte con l'attualità di oggi rispetto ai valori del lavoro, della democrazia e dei diritti e ringrazio ancora una volta voi. Quindi inviterei il sindaco a provare a spogliare insieme. Grazie.